amici e anche oggi realizziamo questo video per far vedere l'oggetto a 360 gradi stiamo parlando di questa smerigliatrice angolare flex vedete è una smerigliatrice di 900 watt come potenza abbiamo i giri in un minuto 11.000 giri al minuto il dischetto del flex è di uno spessore di 115 mm è sempre una valimentazione a 238 cianco rente ci vedete quanto sotto è discreto è dotata di tutto questo qua si può impugnatura si può mettere sia al centro ai laterali destra e sinistra il tutto viene spedito tramite il corriere sda per qualsiasi informazione mi potete contattare questo è un saluto a tutti da giuseppe questo è tutto alla prossima